Sul piede di guerra i cittadini teramani delle otto palazzine Ater di Collatterrato, dichiarate inagibili dopo il sisma del 30 ottobre. I residenti, ormai fuori casa da mesi, hanno chiesto di incontrare la prossima settimana l'amministrazione comunale di Teramo e i rappresentanti dell'Ater, per avere notizia sulle proprie abitazioni e per sapere quando potranno rientrare a vivere negli stabili. La rabbia degli sfollati nasce dal fatto che gli immobili in questione sono stati classificati B dalla protezione civile, il che significa lesioni di poco conto e facilmente riparabili. E allora perché mandare via tanta gente, tra cui anziani e malati? Perché, nonostante le promesse del sindaco Brucchi di intimare all'Ater di riparare immediatamente i danni, nulla sia stato ancora fatto? Intanto sono in molte che a Collatterrato hanno deciso di dormire a turno in macchina per scongiurare atti di sciacallaggio. Qualcuno nel frattempo è anche deceduto, forse di crepacuore. Insomma, è tempo di risposte e certezze.